Chevrolet Corvette Grand Sport Final Edition sarà l'ultima Corvette con il motore anteriore e per questo sta già suscitando l'interesse di appassionati e collezionisti. Unisce la precisione Corvette a uno stile ancora più sportivo, un connubio che offre prestazioni e affidabilità senza eguali. Con i suoi 466 cavalli di potenza e una coppia di 630 Nm, la Grand Sport tocca una nuova meta. Il motore è il potente V8 da 6,2 litri ed è in grado di raggiungere i 100 km orari in soli 4,1 secondi. In breve, le stesse sensazioni di un'auto da corsa. Per maggior controllo in frenata, la Grand Sport Final Edition monta freni Brembo carboceramici. Creata per stupire giro dopo giro, questa favolosa auto da corsa possiede una struttura leggera, arricchita da un pacchetto aerodinamico capace di tenere incollata la pista. Lo spoiler posteriore in stile Z06, i pannelli in fibra di carbonio e il pacchetto Ground Effect contribuiscono ulteriormente a ridurne il peso e a migliorare l'aerodinamica del veicolo. La posizione del guidatore è perfetta nelle curve. I sedili Grand Touring e Competition hanno un telaio in magnesio per offrire un supporto ottimale e superficie in pelle Nappa Premium. A migliorare ulteriormente l'esperienza di guida, l'intuitivo Head-Up Display e lo sterzo in microfibra o in pelle scamosciata. La settima generazione di Corvette è attualmente quella con i sistemi di connettività più avanzati. Touchscreen da 8 pollici, Chevrolet MyLink, Head-Up Display e Performance Data Recorder. Una delle caratteristiche fondamentali delle ultime generazioni di Corvette è il tetto asportabile, si può riporre come in passato nell'ampio baule.